Volevo votare Matteo Renzi perché sono iscritto da lui ma poi lui ha infangato Vannacci e io gli ho detto chiedigli scusa o voto Vannacci e Renzi mi ha risposto così E qui c'è una polemica che dice Natale Pellitzer ha infangato Vannacci per una frase sui disabili che non ha pronunciato se vuoi chiedi scusa proprio qui, ascolta la frase, se vuoi votare Vannacci vuoi Vannacci Renzi mi ha detto dopo che per come è stata riportata la frase sui disabili ha ferito molti e ti fidi di un pettegolezzo E allora caro Vannacci se tu vuoi votare Vannacci amico io voto amici come prima E allora voto Vannacci e amici come prima